Allora, benvenuti, ci troviamo in via imperiale, proponiamo questo appartamento posto ad un quarto piano in vendita. È un appartamento ordinato in tutte le sue parti, ha la porta blindata e il riscaldamento autonomo. Gli infissi sono di penultima generazione, già con doppi vetri, e abbiamo le persiane in alluminio. Iniziamo con la visita. Allora, davanti a noi abbiamo questo bellissimo soggiornino di ingresso. Ci mettiamo nella prima camera, che può essere un salotto, una camera singola, di generose dimensioni. Ora c'è questo gioco di luci che non ci fa apprezzare meglio la luminosità. Guardiamo l'affaccio. Questo è l'affaccio che abbiamo sull'appartamento, dalla camera. Ci rimettiamo e ci dirigiamo verso la camera matrimoniale, che troveremo alla nostra sinistra. Questa è la camera matrimoniale, anch'essa perfetta. Usciamo dalla camera matrimoniale, ci mettiamo nella cucina. Una cucina che dà sulla faccia nella corte. Ordinatissima, come si può vendere dal video. La guardiamo da un'altra angolazione. I pavimenti sono tutti in piastrelle, molto belle, chiare. Qui abbiamo il bagno, invece. Usciamo dalla cucina e entriamo nel bagno. Abbiamo questo splendido box doccia. Con i servizi. Usciamo e quindi facciamo questo riepilogo veloce dal bagno. Quindi, la cucina, perfetta in tutte le sue parti. La camera da letto. La camera singola. Ed infine, come avevo detto all'inizio, qui abbiamo l'ingresso. Ci troviamo in via imperiale.